Iniziamo subito! Oh, il tizio dell'uva! Se non sbagliessi dovrebbe chiamare Pierpaolino! Ah, il GPS dice che dovrebbe essere da queste parti. Oh, eccolo qua! Dai, su, svegliati! Oh, e ti svegli! Oh, ma te vuoi svegliare? Guarda che devi andare a scuola! Niente da fare, svenuto! Bling! Ma sì, certo, deve entrare nel suo stesso mondo! Buon appetito! Da! Meno preoccupante del previsto! Comunque, a parte gli scherzi, non so perché, ma ho un brutto presentimento. Sì, è un posto veramente strano. Ma è normale che l'uva sia fucsia. Sembra radioattiva. Lo sento, è Pierpaolino! Arrivo, amic! E tu chi sei? Sì, ti avviso subito che se sei qua per prendere il tuo amico, allora puoi smammare, tanto non mi sconfiggerai mai per tende. Oh, senti, pallone gonfiati, innanzitutto uno dei termini che non stai parlando con tua madre. Secondo, pensi di potermi battere? Bene, vediamolo subito, sono pronto a sfidarti! Che ingenuo, pensi veramente di potermi affrontare? Bene, ti do subito la risposta! Ah, è bloccata, te l'avevo detto! Vedi di prendermi sul serio o ti spezzo in due! Come vuoi! Allora, prendi questo! Te l'avevo detto, non sei durato neanche cinque secondi! Pensa due volte prima di parlare! Finora abbiamo giocato, ma ora chiudiamola qua! Non ho tempo da perdere! Cosa? Ma che hai sulle mani? Sì, semplicemente la cosa che ti ucciderà! Salutoni, grappolone! Ma che... E Pumander si porta la vittoria a casa! Ma... ma... Sai quanto tempo mi ci vorrà per lavare sta dannatissima felpa? Oh, due ore è sicuro, eh! Oh, e sì, e sì, l'emo ti venga libera, ma sta zitto! Eccomi, non ti preoccupare, sei salvo! Ah, grazie, grazie! Ma scusa, tu chi sei? Piacere, io sono Pumander! Lieto di conoscerti! Fammi capire, quindi tu stai raccogliendo delle firme e vuoi che io partecipi? Sì, esatto, potresti firmare? Ma certo! Grazie mille! Ciao tizzi, questo era tutto per il terzo episodio di Scagliando Problemi, vi invito a seguire l'intera serie! E niente, ci vediamo! Ciao!